Che cosa c'è dentro questo calice? Una risposta superficiale potrebbe essere del vino bianco. Magari amanti, appassionati ed esperti di etichette potrebbero specificare verdicchio. Ecco, in questo calice non c'è solo una delle doc più prestigiose e riconosciute dagli enologi, ma anche un territorio. Odori, sapori, lavoro. Assaggiare un bicchiere di verdicchio è l'ultimo atto di un viaggio. Un viaggio inteso come scoperta, che inizia a bordo di un fuoristrada, attraversando filari e vitigni immersi nel paesaggio ondulato delle colline della Vallesina e dei castelli di Iesi. È il Verdicchio Experience, attività enoturistica, proposta dalla cantina Umani Ronchi. Ci troviamo in un territorio che sicuramente è tra i più vocati dell'area di coltivazione del verdicchio. Questa contrada Busche, che dà il nome a questo territorio, è storicamente avevano già grande consapevolezza del valore aggiunto di questo cru. Un cru che è fatto di terreni piuttosto fertili, terreni molto profondi, che riescono ad accumulare acqua in quantità tali da permetterci di superare stagioni anche molto complicate, come sono state le ultime stagioni calde e siccitose. I vini sono vini che per loro sono caratteristiche eleganti, freschi, un po' come l'ambiente dove la vite viene coltivata. Vecchi viti e filari moderni in agricoltura biologica per la sostenibilità ambientale e la tutela della biodiversità. La sostenibilità è stata qualcosa che ci ha aiutato anche fino ad oggi, e speriamo che le cose non peggiorino, a gestire il problema del cambiamento climatico, con particolare riferimento al riscaldamento. Non utilizziamo ovviamente mezzi chimici di alcun tipo, quindi da diservanti piuttosto che gli antiparassitari. Utilizziamo solo prodotti di origine, tra virgolette, naturale, comunque estratti da miniere come rame e zolfo. Abbiamo cercato di lavorare sui terreni attraverso gli inervimenti, i sovesci, per aumentare il contenuto di sostanza organica, che è una condizione essenziale per migliorare anche la capacità dei terreni, la vita nei terreni e quindi la biodiversità dei terreni e anche la loro capacità di accumulare e trattenere acqua.